buonasera a tutti siamo a saonara siamo dalla famiglia lunetta da un ok sta pianista col quale abbiamo intrapreso un progetto in superbonus 110 da lui un anno e mezzo fa abbiamo intrapreso questa strada abbiamo finito di realizzare un intervento in superbonus 110 con un super impianto fotovoltaico da 8 kilowatt con inverta da 6 kilowatt huawei doppia batteria d'accumulo huawei luna 2000 per 30 kilowatt ore capacità totale una wall box per la ricarica di auto elettriche e il trenante dell'iniziativa è stata il sistema ibrido della immergas con pompa di calore da 9 kg allora jacopo in questo anno e mezzo di di utilizzo dell'impianto come sono andate le cose molto bene le bollette le abbiamo ricevute e assolutamente si vede la differenza tra il prima e dopo c'è un pre e un post abbiamo ricevuto anche un incentivo da parte del gse per il rid quindi ritiro dedicato eh sì 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 assolutamente purtroppo l'estate è stata solare e quindi e quindi sono arrivati dei soldini sì 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 un'ottima esperienza per quanto riguarda l'installazione i tecnici mandati da bioenergia hanno fatto un buon lavoro hanno fatto un ottimo lavoro diciamo che è stato ottimo nel senso che si è stata analizzata come era la casa non è una casa nuova quindi bisognava adattare l'impianto a quello che era il preesistente e assolutamente è andata bene sono stati molto molto bravi ti aspettavi che un impianto fotovoltaico potesse produrre così tanto potesse dare questi risultati beh no un po perché non ne sono esperto non sono del campo quindi magari è normale però non me lo aspettavo quindi è stata una bella sorpresa bene tutti hanno avuto bollette super in aumento in in questi due due anni se quest'anno e mezzo per via appunto di del momento storico che conosciamo invece tu incontro tendenza abbiamo imparato il colpo con questa bella sorpresa abbiamo trovato delle belle belle bollette bene se vorrei passare la mobilità elettrica hai già anche una wall box installata che ti permetterà eventualmente di avere anche benzina tra virgolette gratuita dal sole per la mobilità elettrica e per tutte le altre utenze di casa è l'impianto che impianto batteria che funziona a pieno regime assolutamente hai qualche consiglio che tu vuoi dare a qualcuno che si sta approcciando a una consulenza con noi di farla assolutamente siete siete in gamba siete molto molto solari ci piace un po dire e quindi ne vale la pena ne vale assolutamente la pena avere a che fare con voi bene grazie della tua testimonianza grazie di averci messo la faccia aspetto la sigla con la sigla di venerci col pianoforte e buona serata grazie